La prima edizione di Sport Senza Confini non ha deluso le aspettative degli organizzatori. Circa una quarantina sono state le persone con disabilità che si sono cimentate nelle bocce, tiro a volo, apnea subacquea, tiro con l'arco, handbike e calcio balilla. Tutti gli sport erano presenti in contemporanea per il primo evento organizzato nel 2021 dal Comitato Italiano Paralimpico dell'Umbria insieme alla Federazione Italiana di Tiro a Volo e a Superabile INAIL. L'iniziativa si è svolta presso il TAV Umbria Verde di Massamartana ed è stata patrocinata dal CONI regionale e dalla provincia di Perugia. Siamo al TAV Umbria Verde dove abbiamo fatto il primo evento Sport Senza Confini dove c'è stata una ricca presenza di persone con disabilità dove hanno provato alcune attività degli sport paralimpici. Dobbiamo ringraziare sicuramente gli handbicchisti perché hanno sofferto nelle ore calde facendo un bel giro, un bel percorso. Poi abbiamo l'attività del tiravolo, l'attività del tiro colarico, la specialità nuova in Umbria che è l'apnea pinnata sulla piscina chiaramente e poi abbiamo il biliardino e la boccia. Quindi è stato un bel momento, una prima edizione da ripetere e far sì che il posto di Umbria Verde si possa anche conoscere e far partecipare i ragazzi anche al tiravolo.